Tag, post, blog e grab. La rete può essere una giungla di bit anche perché è costretto a frequentarla per mestiere. Ecco perché la Voce dei Berici ha organizzato un corso di aggiornamento sul giornalismo online. Due giornate di formazione tenute da un collega di eccezione, Vittorio Pasteris, della stampa online, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti e l'aiuto di Friuladria e delle suore Dorotei dell'Istituto Farina di Vicenza. Come si stanno comportando? Direi bene, nel senso che anzitutto non sono così tradizionali come le hai descritti tu. E poi stanno facendo delle domande molto interessanti, nel senso che dimostrano che c'è molto interesse e che gli interessa cercare di capire cosa c'è qua nei vicini di casa, quelli che stanno dietro il computer e giocano con sta maledetta cosa che si chiama Internet. Capire come funzionano davvero i flussi comunicativi della rete contribuisce anche a sfatare molti luoghi comuni e a non subire eccessivamente il fascino di un canale che, diciamolo a vent'anni dalla diffusione, ha acquisito la sua maturità contribuendo a svecchiare gli altri mezzi di comunicazione. Sta sparendo quel privilegio del giornalista di raccontare certe cose. Sta venendo fuori tutto il fenomeno di blogger, citizen journalist e cosa l'è, che stanno in parte anche loro raccontando il mondo, forse in un taglio diverso, meno professionale. Dal punto di vista strettamente tecnico direi che è cambiato poco, nel senso che poi si scrive nella maniera in cui si scrive, prima forse in maniera più diretta, meno inarzigogolata, che forse è ancora una cosa molto positiva. Le contaminazioni tra internet e gli altri media sono ancora timide, ma il percorso è tracciato e ormai l'integrazione è pressoché totale, è solo questione di tempo. Gli altri media stanno iniziando a usare la rete in maniera intelligente, cioè usandola per far parlare alla gente, per raccogliere gli umori della gente. Poi come questo determina un modo diverso di fare televisione e carta stampata, in generale no, non cambia molto. Ci sono delle esperienze che stanno già funzionando bene, invece di qualcuno che sta sperimentando e ne sta venendo fuori bene. Ma se i tempi della comunicazione multicanale sono già pronti, un po' meno lo sono i giornalisti, per i quali la scrittura online è diventata solo una mansione in più, in mezzo all'inconvenza quotidiana, da affrontare forse con un pizzico di consapevolezza in più. Molti si rifiutano, perché è molto faticoso fare internet, perché sei esposto per tutto il tempo del tuo turno di lavoro a un lavoro pressante, se vogliamo chi scrive in un quotidiano, avevo uno o due al massimo obiettivi, quei giornalieri, di scrivere il suo articolo, pezzo, eccetera. Quali discorsi sono decisamente diversi. Poi c'è una seconda discorsa, proprio di cultura d'uso del media, cioè che molti giornalisti, per ragioni anagrafiche, per ragioni culturali, che faticano ad entrare in questo nuovo modo di lavorare, in tritta carne discreto. Per cui questo piano piano ci si arriverà. Secondo me è un problema di cambiare la generazione di chi fa un certo mestiere.